Prima regia di un classico teatrale, primo film da regista in uscita, debutto come scrittore, insomma per Alessandro Gasman è un momento mi sembra abbastanza positivo. Diciamo che mi sono dato da fare, è capitato tutto insieme per caso e forse no, nel senso che io dirigo un teatro stabile che è il Teatro Stabile del Veneto, questa è la mia terza stagione, mi è stato chiesto di scrivere un libro, ho trovato uno spazio di quattro mesi per poterlo fare, sono uscito in libreria e devo dire che mi sta dando delle bellissime soddisfazioni e Riccardo è il mio primo classico come regista, non il primo come attore, ma è uno spettacolo che da molti anni avevo in mente di fare, ma soprattutto di fare immaginandolo riscritto da un drammaturgo contemporaneo e ho scelto l'italiano Trevisan che è un drammaturgo del quale peraltro come Teatro Stabile del Veneto abbiamo prodotto l'anno scorso e quest'anno War Stars, che è un testo che ho amato moltissimo, che ha avuto molto successo, peraltro con mia sorella Evo Pagliai e ha fatto un lavoro che va nella direzione che le avevo chiesto, insomma questo è un Riccardo Terzo popolare, avevo voglia di fare un Riccardo Terzo che parlasse la lingua di oggi nel rispetto del linguaggio di Shakespeare, quindi saltando a più e pari quelle che sono le terminologie antiquate, le traduzioni delle quali poco si capisce e soprattutto saltando le tante spiegazioni che giustamente Shakespeare scriveva per un pubblico all'epoca composto in buona parte da analfabeti e che oggi risultano assolutamente inutili, che anzi distraggono e allungano un dramma che già di per sé è molto lungo. Il nostro dura due ore e dieci, solitamente ne dura tre e un quarto. Che rapporto c'è tra il gasman regista e il gasman attore? Beh c'è un ottimo rapporto quando lavorano insieme, come nel caso di Riccardo. Non si creano problemi, confittualità? No, in realtà no, perché sono molto esigente da me stesso, come lo sono peraltro dai miei attori, sono un iperperfezionista e soprattutto lavoro pensando a spettacoli che ho già in qualche maniera visto nella mia immaginazione. Io parto da un disegno scenografico che faccio grosso modo sempre e poi da un disegno musicale che in questo caso, come tutti i miei spettacoli, è curato da Pivio e Aldo Descalzi, che guarda caso sono genovesi, musicisti straordinari, che hanno curato anche la colonna sonora del mio film Razzabastarda che sarà nelle sale dal 19 di aprile e poi si sono uniti in questo lavoro Mariano Tufano che è un costumista, anche vincitore di Davide Donatello, importante, lavorato molto con Crialese e il mio scenografo Gianluca Amodio che hanno lavorato in una direzione che era quella di un mondo gotico-crepuscolare con un'ispirazione non troppo neanche velata al cinema di un regista che io adoro, di cui sono fan, che è Tim Burton. È una famiglia con tre generazioni di attori, si può dire, e Alessandro Gasom poteva fare qualcosa di diverso? Ah beh, sì, sarebbe stato auspicabile per molti che non amano il mio lavoro, forse un dispiacere per chi ama quello che faccio, ma ormai mi sono abituato anche perché ho scoperto che grosso modo non è che sappia fare tante altre cose, insomma, quindi faccio quello che lentamente in 30 anni di professione ho cercato di imparare. Riccardo, ad esempio, Riccardo Terzo, è occasione per me di imparare tantissimo tutte le sere, sono credo migliorato molto come attore nel corso delle repliche e spero di continuare a farlo, è molto difficile il ruolo. Avevo letto una volta che hai detto in un'intervista all'inizio della mia carriera recitavo come un cane, è vero? Confermo, confermo, questa è la dimostrazione che il talento va scoperto, nel senso che non credo che si possa diventare attori senza talento, ma si deve veramente, per tirarlo fuori, seguire una delle indicazioni che mio padre mi ha lasciato nel corso della sua vita e con me, che è quella di cercare sempre di raggiungere dei risultati che arrecano un certo sforzo per essere raggiunti, evitare le scorciatoie, che è un po' il contrario di quello che la società di oggi insegna soprattutto ai giovani, diventare immediatamente famosi attraverso un reality show, insomma, continuo a sostenere che una gavetta lunga e anche faticosa, come può essere una domenica teatrale, sia l'ideale per scoprire se si ha o no un talento. Il cognome ti ha più favorito o sfavorito? Il cognome mi ha più favorito sicuramente all'inizio della mia carriera, poi dopo una decina d'anni ha cominciato a pesarmi un po', perché chiaramente era inevitabile che avendo un padre che è stato un attore insuperabile venissero fatti dei paragoni, poi da quando sono diventato regista dei miei spettacoli, questa è la mia settima regia, i paragoni sono, non dico cessati, ma molto diminuiti e ho scoperto e ho cercato di spingere il mio lavoro e le storie che racconto verso quelli che sono i miei gusti, che sono piuttosto lontani da quelli che erano quelli di mio padre, probabilmente per una differenza generazionale molto larga. Di tuo padre cosa ti piace ricordare di più? La sua generosità in scena e nella vita, continuo a ricordare mio padre come l'uomo più generoso che io abbia mai incontrato e sono molto orgoglioso che sia stato, mi è stato molto fortunato in questo senso e poi era forse la persona che mi faceva più ridere, perché al contrario di quella che era la sua immagine pubblica era comunque un uomo chiuso, timido e che quindi riusciva con una comicità diametralmente opposta quella che utilizzava al cinema a farti ridere su piccole cose raffinate e anche leggermente snob che erano inaspettate da un personaggio pubblico come quello che aveva costruito. L'avevamo detto all'inizio un libro, autore, sbagliando l'ordine delle cose, si intitola questo libro che è uscito qualche mese fa insomma, che però curiosamente, poi veniamo al titolo, ma curiosamente il Gasman è con una doppia N, c'è un motivo? Il nostro cognome è con due N sul passaporto, sui documenti. Perché voi siete di origine tedesca? Il mio nonno era tedesco, tedesco, un gigante di oltre due metri. Però questo secondo nome, questa seconda N? La seconda N fu tolta da mio padre per semplificare l'utilizzo artistico del suo cognome. Mentre mia nonna che si chiamava Ambron, che era pisana, però poi trasferitasi a Genova ed è per questo che mio padre nacque in questa città, ebrea, e dovete cambiare il suo cognome da Ambroni in Ambrosi durante il ventennio per evidenti motivi e quindi diciamo che il recupero della seconda N è un modo per considerarmi cittadino del mondo e anche così per stabilire che mi piacerebbe vivere in un paese dove più nessuno, mai più nessuno, sia costretto a cambiare il proprio cognome per avere dei diritti di cittadinanza, come ad esempio gli extracomunitari che nascono nel nostro paese, uguali a quelli degli italiani. È un libro in cui ti sei messo molto a nudo, in cui hai raccontato molte cose di te, anche cose spiacevoli. Tu hai parlato per esempio della cosa che mi ha colpito, quella degli attacchi di panico, che generalmente sono un problema molto grave, che però si tende un po' a mettere sotto il tappeto. A nascondere, sì, tutto ciò che ha a che fare con la nostra psiche viene considerato qualcosa di cui non parlare, di cui vergognarsi, in realtà gli attacchi di panico sono una malattia come un'altra che si può curare, che si può superare come dimostro io, bisogna applicarsi, di trovare le persone giuste, ma è una cosa che consiglio a tutti coloro che ne soffrono di tirare fuori, di parlarne perché si supera e si può continuare a vivere felicemente. Qui a Genova c'è stato, io ricordo Ulisse e la Verena Bianca, che è stato uno spettacolo straordinario nel 92, in Colombiane, tu e tuo padre insieme, che ricordi hai di quello spettacolo? Il terrore della prima nel porto ridisegnato dall'architetto Piano, in quella tensostruttura nel mezzo dell'acqua, è un trionfo meraviglioso, l'apparizione di mio padre sull'argano del Pequod, la nave del Capitano Acab, è un giro del mondo meraviglioso perché poi quello è uno spettacolo che nacque qui con la collaborazione del Teatro Sabia di Genova che ho l'onore di frequentare in questi giorni e che poi ha toccato il Sud America, la Francia, la Spagna, un giro meraviglioso di due anni, straordinario. Come vedi questo momento della cultura, soprattutto per il teatro? Ci sono notizie difficili che riguardano anche delle realtà genovesi? Sì, ho letto dell'archivolto, mi dispiace molto che una realtà teatrale così importante, alternativa al teatro stabile, debba soffrire e rischiare di scomparire, sarebbe un danno gravissimo per una città culturalmente evoluta come questa e così teatralmente raffinata come dimostra ogni volta a Genova, ogni volta che ho la fortuna di venire a recitare in questa città, la cultura viene nel nostro paese considerata sempre un po' una zavorra, come qualcosa che in momenti di crisi debba essere eliminata proprio perché è un fardello inutile. Questo paese potrebbe vivere di cultura facilmente e potrebbe la cultura diventare un volano economico importante e mi dispiace che né i governi di destra né di sinistra né tecnici né di sopra né di sotto abbiano mai messo la cultura tra i punti fondamentali dei loro programmi di governo. È molto grave che questo non avvenga in un paese come l'Italia soprattutto. A metà aprile esce il film, il tuo primo film da regista, Razza Bastarda, che è stato presentato al Festival di Berlino, tra l'altro ha avuto anche una menzione come opera prima. Dunque è stato presentato al Festival di Roma, era presente comunque anche a Berlino nel mercato del Festival di Berlino, ha vinto una menzione speciale della giuria internazionale che è una cosa che mi lusinga particolarmente non perché non consideri la giuria italiana allo stesso livello ma perché è un film che ho pensato per un mercato internazionale e mi auguro che possa avere una visibilità anche all'estero. Esce il 19 di aprile, tratto da Roma nel suo cucciolo che è un dramma che tu hai portato anche a teatro per tre anni di cui sono protagonista con Giovanni Ansaldo, un giovane attore che ho l'onore di aver scoperto con me Mariko Gamarota, Sergio Meogrossi, Matteo Taranto, Michele Placido che non era con noi in teatro e altri 35 attori, di 7 che eravamo in teatro e circa 40 sono i personaggi del film, è un film crudo, violento ma con un grande cuore che nasce dalla commedia originale scritta da Povod che era un autore assolutamente sconosciuto alla metà degli anni Ottanta, portato in scena da Robert De Niro e che noi abbiamo trasformato in Italia da un disagio che avveniva nelle periferie del Bronx, New York, tra cubani negli anni Ottanta, alle grandi periferie delle nostre città, in questo caso Roma, in una comunità romena proprio perché i romeni sono la comunità straniera più presente nel nostro paese. Qual è la scelta più coraggiosa che senti di aver fatto nella tua vita? Io credo che per fare bene il nostro mestiere si debba sempre mettere una percentuale di rischio forte e io cerco di farlo sempre con i miei spettacoli cercando di non essere ripetitivo, nella vita sicuramente la cosa più importante e coraggiosa che ho fatto è mio figlio Leo del quale sono molto fiero e che è un ottimo guitarrista classico che spero che possa continuare la sua carriera di chitarrista come sta facendo all'Accademia di Santa Cecilia. Il successo ti piace? Al di là del fatto che abbiamo visto anche in questi giorni, tu sei una persona molto disponibile con la gente, con chi viene a teatro, perché non tutti sono così, quindi lo sai anche tu, però ecco il successo ti piace? Il successo mi piace, mi lusinga, sarebbe drammatico se facendo un mestiere pubblico non fossi riconosciuto per strada o nessuno mi chiedesse l'autografo, a volte può essere faticoso ma come diceva mio padre è sempre meglio che andare a lavorare, insomma ci sono mestieri ben più faticosi di quello che faccio io, molto peggio remunerati e in un periodo di crisi come questo ad esempio avere la fortuna come con Riccardo Terzo di avere teatri pieni è già un miracolo che vale doppio e ringrazio il cielo tutte le mattine che questo avvenga. Le critiche le leggi e come ti rapporti? Leggo solo quelle positive. Hai una detto stampa che ti passa quelle positive? Leggo solo quelle positive, fino adesso c'è andata bene, una sola negativa su otto circa quindi è andata bene, è uno spettacolo che può sicuramente dividere le opinioni perché ripeto abbiamo affondato molto nell'opera di Riccardo ma il premio più grande è il grande successo che lo spettacolo sta avendo con il pubblico, giovane in particolare. L'ultima domanda, c'è ancora qualcosa che senti di dover dimostrare a te stesso? Tutti credo, tutti noi dobbiamo continuare a cercare come dice un autore che amo molto di cui ho messo in scena due spettacoli che è Thomas Bernard, dobbiamo pur sapendo che non la raggiungeremo mai cercare disparatamente sempre di raggiungere la perfezione. Questa è una cosa che facevo anche da ragazzo, quando facevo salti lungo mi ponevo una lattina tre centimetri oltre il record mondiale nella consapevolezza che non sarei mai arrivato neanche lontanamente a quella lattina ma quel salto si allungava di qualche centimetro aiutava l'idea di poter saltare così in lungo. Allora grazie e in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.